Non accennano a placarsi le polemiche sui morti delle foibe e la tragedia degli esoli di Giuliano Dalmati. Dopo la presa di posizione negazionista dell'Associazione Partigiani di Rovigo e i dissensi sulla realizzazione e la distribuzione del film Red Land, ora è la volta di questo libro a fumetti dedicato alla tragedia di Norma Cossetto, la giovane italiana violentata in foibata dei partigiani titini alla fine della Seconda Guerra Mondiale e insignita molti anni dopo di medaglia d'oro alla memoria dal Presidente della Repubblica Ciampi. Finalmente una legge dello Stato nel 2004 istituisce il giorno del ricordo e dice anche che le scuole devono approfondire il tema e allora la Regione con il suggerimento e la richiesta di Federesuli ha voluto dare questo fumetto foibe rossa nelle scuole medie del Veneto. E chi dice che questo invece fomenta l'odio? Chi parla di odio è perché ha cattiva coscienza. Una risposta al PD provinciale che sempre oggi in un comunicato parla di deriva estremista, ma soprattutto all'Associazione Partigiani e a Giuliano Vernier che parla di vicenda nata dal fascismo. Lampi è completamente fuori dal tempo perché dovrebbe semplicemente chiedere scusa per essere l'erede morale di quella parte di storia. Quando si chiede di condannare leggi razziali, la destra l'ha sempre fatto. Perché Lampi non ha ancora avuto il coraggio di chiedere scusa? Assessore che non si limita all'Associazione Partigiani, ma chiama in causa anche l'ex senatrice montemellunese Laura Pupato che più di documento storico parla per questo libro di strumento di propaganda. Pupato è veramente fuori dal mondo perché lei, femminista che dovrebbe difendere, ha sempre difeso dicendo a parole la storia delle donne, beh qui si tratta della prima giovane vittima del femminicidio in un modo barbaro. Pupato dovrebbe chiedere scusa anche lei.